No, non hai sbagliato sito, questa è proprio Radio Bau, bbba 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 bau. Dalla spiaggia di Milano continuiamo, siamo in compagnia di Simone Dallavalle, portare il proprio cane in vacanza con sé, io aggiungerei se lui ne ha voglia, vero Simone? Ottimo, ottimo consiglio, mi hai tolto le parole di bocca, è indubbio che il cane, proprio che ho scritto un libro che si intitola Un cane per amico e il cane è un amico, gli amici stanno con noi nel bene e nel male e quindi sarebbe bello che potessero accompagnarci ovunque, questo è un piccolo rilancio che do alle istituzioni che dovrebbero rendere l'Italia veramente pet friendly e non un pezzo alla volta, in attesa che questo succeda se il nostro cane è abituato a viaggiare con noi, a stare in ambienti nuovi, a stare in mezzo agli altri cani, alle persone portiamolo con noi più che volentieri, se questo non è possibile invece il mio consiglio è sempre quello di lasciarlo a casa, in un ambiente che conosce, con ritmi che conosce, con l'aiuto di una persona che conosce lui e il cane, quindi insomma meglio di così non si può, io stesso faccio così, non dovrei dirlo ma a volte anche la miglior pensione è molto simile a un canile, quindi insomma trattiamolo di amico anche se non può venire con noi. E quindi buone vacanze? Buone vacanze!